Dare voce ai silenzi per accogliere, conoscere e includere. Questo è il tema dell'incontro organizzato dall'Associazione Presepe Settecentesco di Acireale con il patrocinio del Comune di Acireale per confrontarsi sui temi dell'autismo e le neurodiversità da un punto di vista sociale, familiare e medico. Un incontro che ieri sera ha registrato una folta presenza di pubblico nei locali del Presepe Settecentesco in via provinciale per i posto, con la partecipazione tra gli altri del parlamentare presidente della Fondazione Italiana Autismo, Davide Faraone, e Daniele Lombardo, fondatore della Robomate, la start-up nata a Catania nel 2012 e creatore del software che costituisce cervello e anima dei robot Nao, Milo e Pepper. Un software che contiene curriculum didattici e piani terapeutici che lo rendono un ausilio prezioso per terapisti e professionisti del settore oltre ad essere parte integrante nella terapia del paziente affetto da disturbi dello spettro autistico Monitore acquisisce dati sugli obiettivi raggiunti dal bambino. Abbiamo aperto le porte del Presepe per dar voce a un tema di grandissima attualità come l'autismo e tutte le neurodiversità. Il Presepe è un luogo che da sempre è di aggregazione e di socialità e quindi ci sembrava giusto dar questo spazio a questo tema.